Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del bel paese intero, giunto alla sua 31esima edizione. La delegazione di Taranto anche quest'anno ha organizzato in provincia diverse aperture che noi riteniamo significative, partendo da Taranto con una riflessione sulla storia della sanità tarantina e anche del paesaggio, che cambia nel tempo con l'ex ospedale Testa, la missione, chiamiamola così, di controllo sui parametri ambientali continua con l'ASL e con l'ARPA. Il patrimonio di storia, arte e natura, il comune denominatore, una ricchezza che continua a stupire luoghi speciali disseminati in ogni angolo della penisola, che rivelano una straordinaria ricchezza anche dove meno te lo aspetti. La nostra struttura ormai è popolata quotidianamente. Noi dal 2021 abbiamo anche i nostri laboratori, che erano prima qui, fra l'altro, nel Palazzo della Prefettura, adesso siamo lì e abbiamo circa 120 persone che quotidianamente frequentano quel posto, che per noi ha anche una valenza simbolica molto significativa. Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, luoghi di lavoro e laboratori artigiani.